Allora, io ho conosciuto Luca qualche mese fa tramite un'inserzione su Facebook e ho iniziato a seguire i suoi video e mi sono incuriosito all'argomento, non sapevo sinceramente neanche che ci fosse la possibilità di approcciare ragazze di giorno e tantomeno qualcuno che lo insegnasse, quindi ci siamo accordati per una sessione su Skype di un'ora in cui lui mi ha chiesto un po' di informazioni riguardo a me e mi ha descritto brevemente il corso, come funzionasse le varie opzioni e ho scelto di andare per il corso di due giorni, collettivo di gruppo, nel nostro caso eravamo due persone, il mio punto di partenza era praticamente zero penso di non aver mai approcciato una ragazza in 30 anni, vabbè diciamo 20 da quando si considera un po' l'età dell'approccio e quindi mi sono messo in gioco per migliorare le mie capacità comunicative e anche gestire in qualche modo l'ansia d'approccio oppure tutti quei sistemi che ti impediscono di essere te stesso il primo approccio che abbiamo fatto, o meglio che ho fatto, è stato parecchio traumatico ci ho messo circa 10-15 minuti per decidermi ad approcciare la prima ragazza, con successo scarsissimo però a fine prima giornata con circa 16 approcci, sono arrivato subito a un instant date, al primo bacio durante il primo instant date, quindi gran successo il primo bacio dopo quanto tempo hai fatto? dopo circa un'ora, il primo bacio è stato fatto circa un'ora dopo l'inizio del primo instant date quindi nella prima location questa ragazza dava un sacco di feedback positivi e la giuria mi faceva segno di procedere dalle retrovie e quindi mi sono buttato ed è andato tutto bene dal primo al secondo giorno si vede subito un miglioramento più che nell'autostima, nella sicurezza dell'approccio poi da un punto di vista tecnico ovviamente ci vuole tempo per rinforzare un po' tutte le strategie imparate però tutto sommato alla fine dei due giorni decisamente il cambiamento si vede ci si sente più sicuri, più tranquilli e anche più consapevoli di quello che si sta facendo cosa ho imparato da questo corso? innanzitutto che è un sacco di pregiudizi e un sacco di informazioni che noi apprendiamo da un punto di vista sociale oppure da altri input come film, serie tv, amici eccetera possono essere modificati e resi molto efficaci con un decisamente poca pratica o meglio anche un corso intensivo di due giorni può portare ottimi risultati Luca è una macchina, non si ferma mai per due giorni, continua a dare input, continua a segnarsi tutto è professionale nonostante ancora molto giovane, assolutamente affidabile penso sia un corso che debbano fare tutti, tutti i ragazzi perché innanzitutto ti dà più possibilità e più possibilità è nella vita, più probabilità ci sono che tu trovi una persona giusta tanto meglio che tu sia felice nella tua vita seconda cosa è sicuramente un valido modo per mettersi in gioco, uscire dalla zona di comfort divertirsi, conoscere persone nuove e poi mettersi a contatto con un professionista che ti sa guidare passo per passo quindi assolutamente consigliato a tutti quindi visto ciò ti ricordo che dal 7 fino al 14 settembre 2022 puoi iscriverti a un corso d'avvio di tre giorni al prezzo di due con uno dei nostri coach ufficiali a Milano oppure a Roma dove uno dei nostri coach ti toglierà di dosso ogni tua paura con le donne tant'è che già il giorno stesso potresti trovarti in camera diretto con una ragazza di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima non sono corsi aperti a tutti, i posti sono limitati a poco più di 10 persone e per partecipare bisogna candidarsi tramite la pagina che trovi cliccando sul primo link in descrizione se hai domande o dubbi sempre in descrizione trovi un altro link che ti porta a Whatsapp per parlare gratuitamente via messaggio con i nostri consulenti e fare tutte le domande che ti servono detto ciò ci vediamo al prossimo video